Renato Pasqualone, questa sera a Loretta Brutino si chiude la prima festa dell'estate, arrivano a Loretta Brutino i com, la cover di Vasco Rossi. Sono un gruppo molto seguito in Abruzzo con il leader Mirko Salerni, infatti pochi giorni fa si sono esibiti come spalla di Vasco Rossi a Modena. Questa sera avremo l'onore di averli sul palco qui a Loretta Brutino in concomitanza della festa dell'estate. A questo proposto colgo l'occasione per ringraziare soprattutto tutti gli operatori e i bar di Loreto che ci hanno permesso di fare questi tre giorni di Kermes Canora sul nostro territorio. E vi aspettiamo numerosi questa sera a Loretta Brutino in piazza Garibaldi dalle ore 9.30 in poi per questo concerto. Sovra! 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 Sovra!